Il 2012 si sta configurando come un anno semplice, non solo per l'ingeglio ma anche per tutti gli operatori non solo del nostro settore ma anche per l'ingeglio. La situazione economica lo sappiamo, è utile nasconderci dietro un dito, non è semplice, i consumi stanno rallentando a livello globale, nonostante per l'ingeglio i volumi li stiamo chiedendo, siamo soddisfatti della fedeltà che i clienti ci stanno riconoscendo e quindi pur nonostante le difficoltà dell'anno lo vediamo comunque a certo punto e ci presentiamo con una nuova veste ai nostri clienti e soprattutto ai nostri clienti distributori e soprattutto ai nostri clienti. L'ingeglio si configura e vuole configurarsi con la sua propria caratteristica di azienda italiana e quindi il nuovo brand enfatizza anche l'italialità dei nostri prodotti, enfatizza che la materia prima che noi usiamo è 100% italiano, quindi garantiamo al consumatore che il nostro latte è 100% italiano e proviene dalle zone del carmigiano raggiano e carmigiano, il nostro duro proviene dalla schematura di questo latte, quindi il nuovo è 100% italiano. Il brand enfatizza un po' anche la modernità nella tradizione di Vergine, modernità con un'immagine molto fresca, molto moderna appunto, richiamandosi però alla tradizione, lanciamo in occasione del Cibus un prodotto assolutamente innovativo, l'abbiamo chiamato mascherchef, è un prodotto destinato al canale dell'orecato e dei trasformatori, con coloro che lo utilizzano per preparazione di pasticcerie e per questo canale della cucina, è un prodotto estremamente versatile e innovativo, ha le caratteristiche di un mascherchone, può stare e si può conservare a temperatura dell'ambiente, ha una scelta di 180 giorni e nella preparazione del prodotto, il prodotto passa da un prodotto per il riempimento di pasticceria fino ad arrivare a un prodotto assolutamente simile al mascherchone, l'abbiamo presentato e devo dire che le prime risposte sono assolutamente in posizione.